Sono 17 le persone colpite dal covid nella struttura ospedaliera di Roccadaspide in attesa dei tamponi su altri operatori che mostrano i sintomi dell'infezione. Nessun medico ha contratto il virus ma tra i pazienti e gli operatori sanitari purtroppo la curva è insalita in questi ultimi giorni. Nella situazione di grande preoccupazione in cui versa ora l'ospedale si fanno i conti con la mancanza di personale. La tensione resta alta sia per il numero di contagi in crescita sia per il numero di persone abilitate a coprire i turni. I pazienti contagiati in precedenza erano tutti entrati in ospedale a Roccadaspide dopo aver ricevuto esito negativo sia al test molecolare rapido sia al tampone. Resta difficile capire da chi possa essere partito il contagio. Intanto i pazienti effetti da covid-19 fortunatamente mostrano soltanto dei lievi sintomi e sono stati trasferiti presso il Maria Santissima Adolorata di Eboli che con i presidi di Battipaglia e Roccadaspide compone il DEA di primo livello, l'ospedale della Piana del Sele. Altri pazienti invece sono stati condotti presso gli ospedali di Agropoli e Scafati. Nonostante quest'ultimo ospedale si trovi a 90 chilometri da Roccadaspide è stata l'unica scelta possibile data la bassa disponibilità di posti letto nei covid hospital del Cilento e della Piana del Sele.